Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Dopo lo sconvolgente The Town of Light, il team italiano LKA si prepara a raccontarci una nuova, disturbante storia. Marta is Dead. L'abbiamo provata in attesa della sua uscita il 24 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, e nonostante i problemi di una build tecnicamente ancora acerba, ci siamo ritrovati immersi anche stavolta in un'atmosfera davvero affascinante. Tutto ha inizio con il volto della protagonista, Giulia, che racconta di quando da bambina la tata era solita leggerle la storia della Dama Bianca, una donna annegata dal suo grande amore follemente geloso e che dopo la morte si trasforma in uno spirito che dimora nell'acqua. Nel 1944 Giulia è una ragazza di 21 anni appassionata di fotografia che si trova nel bosco del lago di San Casciano per qualche scatto. All'improvviso vede nell'acqua la figura di una donna che galleggia, si tuffa per capire se può ancora aiutarla e si ritrova davanti il suo stesso corpo privo di vita. La figura che il lago le ha restituito è però Marta, la sua gemella sordomuta che per qualche motivo indossa i suoi vestiti. Così, quando la famiglia corre per capire cosa è successo e la scambia per la sorella, Giulia prende una decisione tanto rapida quanto folle. Strappa a Marta la catenina con il nome inciso e finge che quel cadavere sia davvero il proprio. L'uccisione della figlia di un generale tedesco residente in Italia fa chiaramente scalpore e ci si chiede se l'assassino abbia avuto un movente politico. Esplorando lo scenario alla ricerca di indizi e documenti dovremo provare a scoprire la verità, avvalendoci anche del supporto della macchina fotografica che nostro padre stava per regalarci. Chiamarla demo è un po' riduttivo. Gli sviluppatori hanno messo a disposizione sette dei dodici capitoli che compongono la campagna, offrendoci dunque un assaggio piuttosto sostanzioso. Un pacchetto in cui trovano posto quasi tutte le meccaniche immaginate dagli autori, salvo l'uso approfondito della macchina fotografica solo accennato nella prima metà della storia. Abbiamo vissuto nei panni di Giulia i primi giorni di una vita rivoluzionata dall'impossibilità di parlare in presenza dei suoi genitori e dall'obbligo di far finta di non poter sentire ciò che dicono, in una ricerca della verità in cui dovremo sfruttare tutto ciò che abbiamo a disposizione. Un diario, la già citata macchina fotografica, un accendino e il nostro coraggio. In termini di gameplay, l'esperienza è simile a quella di The Town of Light, sebbene in questo caso la componente descrittiva non sia l'ingrediente principale, bensì un ottimo contorno rispetto all'esplorazione, all'interazione e alla ricerca. La sensazione generale è quella di trovarsi di fronte a qualcosa di molto simile ai cosiddetti walking simulator, con un comparto narrativo a cui è affidato il ruolo centrale. Tuttavia spiace che non ci siano enigmi tradizionali ad arricchire un'avventura che potrebbe rivelarsi forse un po' troppo breve e scivolare via lasciandoci in eredità solo delle sequenze passive, per quanto forti e disturbanti. La direzione artistica appare davvero interessante, riesce nello spinoso compito di regalare qualche momento di grande intensità e una rappresentazione solida dello scenario. Merito anche di un ottimo sound design, di un'eccellente colonna sonora e di un doppiaggio in italiano per larga parte convincente, al netto di un paio di strafalcioni e di problemi riguardanti il livello dei volumi. Mancanze tecniche sicuramente risolvibili, tuttavia è dura sorvolare sul grave stuttering che si verifica giocando a 4K con tutti i parametri al massimo, ai crash che sorgono quando si prova ad attivare il ray tracing e al DLSS che di fatto non funziona. Magagne che speriamo vengano sistemate da qui al lancio, poiché potrebbero impattare negativamente su un'esperienza narrativa di indubbio spessore e che al termine del settimo capitolo ci ha lasciati con un interrogativo sconvolgente. Martha is Dead si presenta come un titolo fortemente incentrato sulla sceneggiatura, impreziosito da quei tratti unirici e stranianti che sembrano ormai il segno distintivo di LKA. La software house italiana pare intenzionata a consegnarci anche stavolta un thriller psicologico in grado di lasciare il segno, che forse si rivelerà un po' troppo breve, ma sicuramente intenso. In questo momento è l'ottimizzazione tecnica e i lavori di rifinitura su PC a destare le maggiori preoccupazioni, ma incrociamo le dita affinché tali difetti non pesino sul debutto del gioco. Anche voi aspettate con ansia la nuova fatica di LKA? Ditecelo nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli che compariranno ora qui accanto. Grazie e alla prossima!